E' una delle metodiche che viene utilizzata per ridurre la presenza del cinghiale, soprattutto in aree come queste che sono troppo frequentate. E' un metodo che noi abbiamo avanzato e è stato sperimentato anche in altre realtà, funziona, bisogna metterlo in pratica per ridurre la densità di cinghiale presente nel Parco Nazionale del Cilento. Noi siamo disponibili a fare questa azione pilota con il sindaco di Pollica anche per dimostrare che si può fare di meglio di quanto fino ad oggi è stato fatto. Perché il Cilento però rispetto ad altre aree protette è arrivato tardi su questa metodica, su questo metodo? Sono tanti, non è solo il Cilento. Il Cilento paga una situazione complicata dal punto di vista della governanza del Parco, assenza di un consiglio direttivo, un commissario troppo ancora non ben radicato sul territorio e soprattutto una mancanza della comunità del Parco. Perché noi possiamo dire peste e corda del Parco Nazionale del Cilento, però non dobbiamo dimenticare che nemmeno i sindaci brillano per presenza. Quindi noi cerchiamo di dare una mano perché siamo coscienti che attorno al cinghiale rischia di concentrarsi un'attesa attorno al Parco, attorno a queste situazioni complicate che poi hanno dietro altri interessi. Qui la scusa è il cinghiale ma in realtà si vuole parlare di riperimetrazione del Parco, cose che noi non vogliamo nemmeno sentirne parlare. Problema affrontato male o sottovalutato dall'ente Parco secondo lei? Ma io non direi insomma che questo è il problema, diciamo che è un problema relativamente recente, mentre ad esempio noi in Toscana con la densità di cinghiale ci conviviamo da sempre praticamente, il problema cinghiale è sempre stato presente in Toscana, nel Parco del Cilento l'emergenza è una cosa molto più recente, quindi dovendo poi assestarsi con questo problema è chiaro che all'inizio la cosa è un po' più complicata, penso che si derivi essenzialmente da questo, da una problematica nuova per il Parco del Cilento che sono pochi anni che si è verificata. Ultima domanda, l'aspetto pratico, come funziona un recinto di cattura? È abbastanza semplice nel senso che i cinghiali vengono attirati con un'esca alimentare, in genere mais in granella che è la cosa che più gli piace ma si possono usare anche altre esche, e prima vengono abituati ad alimentarsi all'interno del recinto, quando poi lo fanno con tranquillità e il numero si vede che è consistente, viene innescato un meccanismo di scatto che chiude i cinghiali dentro al recinto di cattura, dopodiché appunto si prelevano e si portano fuori praticamente a questo recinto attraverso delle casse di trasporto, ma abbastanza semplice.